Alla non è realizzazione in campionato, intanto Vittozzi la soluzione è dentro, Chirichella non ci arriva, la palla è dentro, ha segnato l'Atletico che fa 1-0 Santoriello, occhio all'anticipo, il pallone è buono per Vittozzi che si coordina e va in porta, poker dell'Atletico con Vittozzi che segna un'altra gran bella rete